Grande anticipazione per i fan delle serie TV, una nuova gemma turca arriva su Canale 5. È con grande entusiasmo che annunciamo l'arrivo di una serie televisiva turca che promette di catturare l'attenzione di tutti gli spettatori italiani, Dreams and Realities. Questa nuova produzione, che ha già conquistato il pubblico internazionale, si appresta a fare il suo debutto trionfale sul piccolo schermo di Canale 5. Dreams and Realities. Zia immergerà in storie profonde e coinvolgenti, seguendo le vite di cinque donne straordinarie, determinate a realizzare i propri sogni nonostante le sfide e le avversità che la vita presenta loro. Ma un misterioso delitto cambierà il corso delle loro esistenze, aggiungendo un elemento di suspense e dramma che terrà gali spettatori incollati allo schermo. Questo imperdibile evento televisivo è un motivo in più per iscriversi al canale di Canale 5 e attivare le notifiche, assicurandosi di non perdere neanche un episodio di questa avvincente serie. Non dimenticate di mostrare il vostro supporto con un like e preparatevi a un viaggio emozionante nel mondo delle serie televisive turche. Con la brillante partecipazione di Uskegu, già ammirata per le sue straordinarie interpretazioni in Better Sweet e Cherry Season, Dreams and Realities, rappresenta un nuovo e affascinante capitolo delle produzioni televisive turche che stanno conquistando il cuore degli spettatori italiani. Ingresso trionfale in Italia della serie televisiva turca Dreams and Realities, con la brillante interpretazione di Uskegu, celebre per le sue performance in Better Sweet e Cherry Season, segna un altro notevole traguardo nella crescente affezione del pubblico italiano per le produzioni televisive provenienti dalla Turchia. Questi programmi si sono rivelati autentici pilastri del daytime di Canale 5, conquistando una vasta schiera di spettatori e alimentando un fervente interesse. Il fenomenale successo di serie come Terra Amara è un chiaro indicatore di questa crescente tendenza, con un'impressionante media di circa 3 milioni di telespettatori al giorno. La televisione turca ha indubbiamente guadagnato un posto d'onore nel cuore degli italiani, divenendo un imperdibile rituale per molti. La decisione strategica di Mediaset di persistere nel finanziamento di tali progetti si basa non solo sulle eccezionali performance in termini di share, ma anche sulla capacità innata di queste serie di immergere emotivamente G spettatori, grazie a trame magnetiche e personaggi riccamente sviluppati. La prassi di promuovere e intervistare gli attori delle serie turche ha solidamente radicato in programmi televisivi italiani come Verissimo, condotto con maestria da Silvia Toffanin. Ogni settimana gli appassionati hanno l'opportunità unica di scoprire le sfumature più profonde dei personaggi interpretati e di esplorare gli aspetti più intimi della vita dei loro idoli sullo schermo. Non perdete l'occasione di essere parte di questa straordinaria avventura televisiva. Iscrivetevi ora e preparatevi per l'inizio di Dreams and Realities su Canale 5. Questo rafforza ulteriormente il legame tra gli attori e il pubblico italiano, elevando le stelle delle serie turche al ruolo di autentici icone della cultura mediatica italiana. L'introduzione del nuovo programma Dreams and Realities nella line-up di Mediaset è una testimonianza della loro continua fiducia in questo tipo di produzioni e del loro impegno nel presentare al pubblico italiano racconti turchi sempre freschi e coinvolgenti. Il fulcro indiscusso di Dreams and Realities, la serie turca che ha debuttato con grande successo nel 2022 nella sua terra natale, è Acha Gu, un nome che evoca sicuramente un forte senso di familiarità tra gli estimatori del genere. Il suo talento e la sua versatilità sono stati evidenziati in produzioni di successo come B-Sweet e Mr. Wrong, dove ha condiviso la scena con la stella emergente Ken Yomen Gurel. A-K-Goo ha anche assunto il ruolo principale in un altro drama molto apprezzato dal pubblico italiano. Cherry Season È proprio nel contesto di questa serie che Acha Gu ha incrociato il cammino di Serkan Kayolu, il suo futuro marito. La magia dell'amore è sbocciata sul set e la loro storia d'amore ha preso forma durante le riprese, culminando in un matrimonio che, di recente, ha commemorato con gioia il suo primo anniversario, celebrato con dolci omaggi su Instagram. Tuttavia, poniamo ora l'attenzione su Dreams and Realities. Al cuore della trama di questa nuova serie troviamo cinque donne, ciascuna animata da sogni e desideri unici. Questi personaggi femminili guideranno gli spettatori in un avvincente percorso, svelando le loro ambizioni e speranze. Ma, come in ogni grande storia, la tranquillità del loro mondo viene improvvisamente interrotta da un tragico omicidio, che sconvolgerà profondamente il corso delle loro esistenze. La serie, con la sua intrigante fusione di dramma, suspense e un tocco di mistero, promette di mantenere gli spettatori incollati allo schermo, ansiosi di scoprire ogni singolo dettaglio. Con Osg Gurel al centro della storia, l'attenzione degli spettatori è assicurata, data la sua innata bravura e la sua abilità nel coinvolgere il pubblico. Dreams and Realities si presenta come un'opera che arricchirà ulteriormente il già variegato panorama delle serie televisive turche. Dreams and Realities si distingue non solo per la sua trama avvincente, ma anche per la sua struttura narrativa. La serie vanta una durata di due stagioni, comprensive di un totale di 26 episodi, ciascuno della durata di 60 minuti. Questa scelta di durata si rivela ideale per una potenziale messa in onda estiva, regalando agli spettatori un'occasione perfetta per immergersi completamente nella narrazione. Il titolo stesso, Dreams and Realities, che tradotto significa Sogni e realtà, anticipa una profonda esplorazione delle aspirazioni, delle sfide e delle complessità della vita delle cinque protagoniste. Inizialmente, unite da una solida amicizia, il destino le porta in direzioni diverse, riducendo il loro numero a quattro. Attraverso le loro singole vicissitudini e percorsi, la trama si snoda, tessendo intricate relazioni tra i sogni idealizzati e la dura realtà con cui ciascuna di loro si confronta. Uno degli elementi centrali della trama è De Sale, un'aspirante scrittrice che nutre il sogno di affermarsi nel panorama letterario. Tuttavia, al momento, si trova relegata a un impiego in un'azienda che si occupa della produzione di insegne luminose. La narrazione si sviluppa intrecciando le sfide e le occasioni che la vita presenta a De Sale, regalando agli spettatori uno sguardo intenso e coinvolgente sulla sua evoluzione e sulle sfide che affronta. Parallelamente, incontriamo Gunes, che nutre il desiderio di diventare un'avvocatessa specializzata in diritto civile. Nonostante la sua passione, si ritrova incastrata in un tirocinio poco gratificante presso uno studio legale che si focalizza principalmente sui pignoramenti. La sua battaglia per perseguire il suo autentico sogno in mezzo alle complessità di una realtà spesso ostile si rivela uno degli archi narrativi più avvincenti della serie, dando al pubblico la possibilità di addentrarsi nelle intricate azioni del mondo legale. Infine, ma non meno rilevante, c'è Seten. La sua ambizione è quella di affermarsi come curatrice d'arte, nonostante il suo attuale impiego come semplice inserviente in una galleria d'arte di basso profilo. La sua determinazione nel cercare di realizzare il suo sogno, nonostante le circostanze avverse, aggiunge un ulteriore strato di profondità e tensione alla serie, sottolineando la resilienza e la determinazione dei personaggi principali. La dualità che vive Melike, tra il suo ardente desiderio di affermarsi nel mondo dell'arte e la sua attuale posizione marginale, presenta uno spaccato affascinante sulle ambizioni e le sfide intrinseche al settore artistico. Melike, con visioni di diventare una magnate nel settore edilizio e realizzare residenze di lusso per una clientela esclusiva, si ritrova invece in una condizione di precarietà economica. Tuttavia, la sua resilienza e la sua determinazione nel perseguire il successo imprenditoriale emergono come elementi chiave, offrendo al pubblico uno sguardo penetrante sulle barriere economiche e sociali che possono interrompere il cammino verso il successo. L'intreccio narrativo delle vicende di queste donne, con i loro sogni arditi e le circostanze impreviste che devono affrontare, si sviluppa attraverso una serie di vicissitudini che culminano in un tragico omicidio. Questo evento drammatico altera profondamente il corso delle loro esistenze, dando alla serie una profondità emotiva e tematica. Dreams and Realities promette di sondare le tematiche universali di determinazione, resilienza e la battaglia incessante per realizzare i propri sogni. In un mondo dove le aspettative e la realtà sono spesso in conflitto. Il percorso delle nostre protagoniste, che cercano incessantemente la felicità, subisce un'inesorabile interruzione quando vengono informate della tragica scomparsa della loro cara amica Mariam. In questo momento cruciale, dove i sogni e la realtà confliggono dolorosamente, le protagoniste si trovano in bilico tra la ricerca della verità sull'omicidio di Mariam e la determinazione di perseguire i propri sogni, nonostante il peso del dolore e della perdita. Questo evento traumatico si configura come il cuore pulsante di Dreams and Realities, mentre le protagoniste si avventurano nei labirinti oscuri delle loro esistenze e aspirazioni. La tensione narrativa cresce man mano che tentano di bilanciare il desiderio di giustizia con la resilienza nel continuare a inseguire i propri sogni. La serie non solo si focalizza sulla risoluzione dell'omicidio, ma esplora anche il delicato processo di guarigione delle protagoniste, un percorso intrinsecamente intrecciato con la loro inarrestabile determinazione di perseguire i sogni nonostante le avversità. Una nota distintiva è l'innovativa modalità di distribuzione di Dreams and Realities. Anziché essere trasmessa su una delle tradizionali piattaforme televisive di Mediaset, sarà disponibile in streaming esclusivamente su Miri Infinity. Questa decisione riflette l'evoluzione del consumo mediatico contemporaneo, offrendo al pubblico la flessibilità di accedere ai contenuti quando e dove preferisce. L'appuntamento è quindi fissato per il 29 gennaio, promettendo agli spettatori un'esperienza televisiva avvincente, densa di emozioni e profondamente coinvolgente. Attraverso una trama magistralmente costruita che intreccia suspense, dramma e la costante ricerca della felicità, segnate con cura la data 29 gennaio sui vostri calendari digitali. È proprio in quel giorno che avrete l'opportunità di immergervi completamente nelle storie affascinanti e avvincenti di queste donne determinate e coraggiose. Non perdete l'occasione di iscrivervi al nostro canale, di attivare le notifiche e di lasciare un like se siete pronti ad avventurarvi attraverso i labirinti sottili che separano i sogni dalla realtà con Dreams and Realities. Questo viaggio televisivo sarà un'esperienza indimenticabile, una rara miscela di emozioni forti, suspense incessante e la continua ricerca della felicità autentica. Se ancora non avete fatto parte della nostra community, vi invito caldamente ad iscrivervi al mio canale senza indugio. Insieme continueremo a esplorare e a svelare i misteri che ci attendono. Ci ritroveremo nella prossima entusiasmante puntata.